amici carissimi di auto occasioni un saluto a voi e un saluto a te paolo grazie federica benvenuta e benvenuto a tutti quanti voi grazie mille ma dove siamo siamo da auto vip gruppo catalano ormai una distribuzione davvero capillare in tutto torino e provincia potete scegliere la sede che per voi è più comoda ma quella dove siamo oggi è davvero una sede speciale perché siamo nell'autosalone dedicato a dacia in corso tazzoni 201 e oggi siamo davvero molto molto emozionati perché la puntata stessa è speciale perché abbiamo un'anteprima che lei ve la ricordate l'abbiamo vista al salone di ginevra e adesso possiamo toccarla con mano possiamo osservarla proprio in un'anteprima ufficiale qui da noi la nuova dacia duster che bella è esattamente federica bellissima veramente una vettura rinnovata completamente nuova quindi da ginevra a torino l'abbiamo portata qua per voi molta gente la sta venendo a vedere noi ne abbiamo vendute più di 400 senza neanche vedere l'auto quindi adesso i clienti stanno anche venendo a vedere quello che hanno acquistato e sono contentissimi quindi dacia duster sempre vendibile in tutti i saloni dell'auto vip gode dell'incentivo statale motorizzazioni fantastiche venite a scoprirla ma qui poi abbiamo una formula speciale tutta nostra sì esatto plus valore dacia anche su questa vettura è applicabile quindi tre anni di assicurazione furto incendio compresa la casco i tagliandi un valore che tiene la vettura nel tempo quindi veramente fantastico partiamo con delle rate bassissime da 169 euro sulla versione gpl expression ricordo anche le motorizzazioni mantiene la versione gpl quindi la più venduta 100 cavalli gpl non paga al bollo una vettura veramente performante con bassi consumi il 1.2 130 cavalli mild hybrid che troviamo anche nella versione 4x4 quindi federica continua la parte off road del dacia duster quindi in versione mild hybrid è anche 4x4 e poi la nuova versione un full hybrid da 140 cavalli quindi copre tutte quante le motorizzazioni che interessano alla clientela ricordo anche per le aziende importantissimo perché dacia duster dedicato alle aziende si affaccia sul mercato con un canone da 349 euro al mese ovviamente un noleggio quindi con furti incendio casco la polizza rc tutti i tagliandi compresi per 36 mesi di durata e 75 mila chilometri di percorrenza quindi un'offerta particolare dedicata alle aziende e nella versione gpl quindi questa offerta è fatta sulla motorizzazione gpl volendo si può fare anche sul full hybrid se vi può interessare e non è tutto perché qui in corso tazzoli 201 le sorprese continuano perché proprio adiacente abbiamo invece un salone che non è decisamente da meno tutto dedicato a renault che dici ci spostiamo assolutamente sì andiamo e come promesso eccoci qui siamo circondate da queste meravigliose renault con tantissime novità momento propizio anche qui paolo perché incentivi e formula valore futuro esattamente continuano incentivi anche sulla tutta la gamma renault ricordo tutte le vetture renault potete averle anche con motorizzazione gpl dalla clio dal capture che abbiamo qui dietro di noi quindi vi aspettiamo veramente soprattutto per provarle ricordo sempre importantissima la prova per capire veramente se un'auto fa per voi le facciamo provare perché siamo sicuri ovviamente la sicurezza che avete in voi stessi qui troviamo tutta la gamma sul nuovo e anche tanti chilometri zero esattamente chilometri zero soprattutto su austral con dei prezzi fantastici ve ne butto lì uno il full hybrid 200 cavalli allestimento esprit alpin quindi la versione più completa la proponiamo a 36.900 euro attenzione 36.900 euro una vettura che fa più di 50 da listino quindi anche questa l'abbiamo in prova quindi venite a provarla potete assaporare le quattro ruote sterzanti che è veramente un non plus ultra di renault e quindi vi attendiamo la vostra grande bravura è poi che state diventando sempre più specializzati anche nell'offrire il veicolo giusto per chi ha esigenze lavorative quindi veicoli commerciali sempre più precisi esattamente veicoli commerciali vetture dedicate alle aziende quindi tutta la gamma di vetture di vetture immatricolabili autocarro per scaricare al 100 per cento i vostri costi veicoli commerciali dal piccolo express il traffic il master veicoli allestiti celle frigo abbiamo veramente di tutto partiamo dal cangu van e dall'express van quindi piccolini di casa renault uno sconto rottamazione con incentivo statale di 5.000 euro a partire da 5.000 euro il renault traffic fino a 10.250 euro di sconto rottamazione avete un veicolo commerciale da rottamare bene veniteci a trovare perché 10.250 euro è lo sconto che proponiamo con rottamazione poi tutta la gamma di vetture n1 hanno sul librido fino a 2.500 euro di sconto rottamazione e poi sull'elettrico invece vi porto sui chilometri zero abbiamo ancora dei cangu full electric pensate lo proponiamo a 21.900 euro più iva un prezzo eccezionale perché una vettura che supera i 36.000 euro più iva e ve la proponiamo appunto a 21.900 euro ne abbiamo ancora quattro disponibili veniteci a trovare perché veramente un prezzo incredibile viaggiate nella zona ztl quindi emissioni zero quindi veramente una vettura adatta per la città veniteci a trovare e a provarla assolutamente paolo visto che la puntata è stata strepitosa non possiamo concludere banalmente bensì con una ciliegina sulla torta assolutamente renon rafale voi avete visto qualcosa probabilmente sui social venite nelle nostre sedi vi dico solo questo veniteci a trovare bene e con questo invito un po velato noi vi salutiamo un saluto carissimo da parte di auto vip scegliete la sede a voi più comoda siamo ormai ben 6 da parte di auto occasioni di paolo e di federica grazie a tutti